Come in ogni mostra del cinema che si rispetti, anche in quella di Taranto la giuria ha emesso il suo verdetto. Miglior lungometraggio in concorso dell'edizione 2023 è Joseph's Journey, del regista siriano Jude Said, che si è giudicato un premio di 2.500 euro. Anila Varfi, Ligliana Mele, Maria Agnelli, Antonella Fattori, Marta Zani, Andreana Calchidi hanno così argomentato la loro decisione. Per l'intensità della storia in cui viene ben rappresentato l'amore per la famiglia è un delicato ma forte senso di protezione. Nell'oasi dei battendieri la cerimonia conclusiva della premiazione, preceduta dal coinvolgente concerto, prendi la tua gioia nel vento con Antonella Maddalena, Antonello Parisi, Fabrizio Galasso. The White Caravan, miglior documentario, The Last Party, miglior cortometraggio, e poi le menzioni come miglior regia a Caramelle, miglior soggetto a Marrobbio, miglior fotografia la sposa, miglior interpretazione per Parvin. A tutti i film e alle giurate è consegnato il mattone primo del Mediterraneo, opera del maestro ceramista Antonio Vestita. La mia prima esperienza qui a Taranto, quindi qualsiasi cosa che ho visto mi ha catturato e mi ha catturato il fascino di questa città. Poi invece nel contesto lavorativo professionale con la giuria siamo stati molto affiatati insieme, quindi è stata un'esperienza bella, professionalmente divertente, con tanto intesa, come se fossimo una famiglia. Quindi questa è stata... mi porta un bel ricordo a casa. Abbiamo fatto watch, abbiamo fatto incontri, abbiamo fatto dibattiti, insomma noi siamo qui a testimoniare la presenza del cinema nella città di Taranto, a far sì che Taranto possa diventare quello che merita, cioè il caposaldo di quella cultura mediterranea che attraverso il cinema e tante tante altre cose, quella cultura mediterranea che sicuramente può vedere qui a Taranto la sua principale sede.